Ciao, benvenuta e benvenuto sul mio canale. Oggi ho pensato di proporre una pratica per la primavera, quindi per richiamare in noi una fluidità e calma, quindi andremo con armonia e dinamicità tra una posizione e l'altra. Per la pratica non abbiamo bisogno di supporti in particolare, ma se sai di aver bisogno di un paio di blocchi ti consiglio di prepararli vicino al tuo tappetino. Bene, cominciamo seduti con la schiena bene dritta in una posizione che preferisci, gambe incrociate o in ginocchio. Allunghiamo la schiena e chiudiamo gli occhi. Cominciamo a rilassare quelle parti del corpo che non servono per mantenere questa posizione. ci prendiamo questi istanti per centrarci, per prendere consapevolezza del momento presente. prendiamo ora un bel respiro profondo dal naso, tratteniamo qualche istante ed espiriamo dalla bocca e questo espiro ci fa aprire lentamente gli occhi. Benissimo, andiamo adesso ad incrociare le dita, allunghiamo i palmi delle mani in avanti, inspira, porta le braccia sopra la tua testa e espiro, andiamo ad allungare il busto verso sinistra. Inspiro, torno al centro e espiro, vado a destra. Benissimo, inspiro, ancora e espiro. Attiviamo bene l'addome e cerchiamo di allungare il busto sempre di più a lato. Cerca di non pensare di piegarti in un lato, ma di allungarti verso l'alto in diagonale. Facciamo l'ultimo per lato, inspiro centro e espiro lato. E poi ritorniamo al centro, allunghiamo bene qua, inspira e espira. La mano sinistra va sulla coscia destra, la tua mano destra è dietro di te. Inspirando andiamo ad allungarci bene verso l'alto ed espirando spingo sulla coscia per andare bene nella mia torsione. ritorniamo al centro, inspiro, allungo sulle braccia e espiro adesso di là, mano destra sulla coscia sinistra, mano sinistra dietro di te. Inspira, allunga bene verso l'alto ed espiro, ruoto, allungo bene in torsione. ritorniamo in avanti, inspiro, allungo, unisco i palmi e espiro, mani unite avanti al petto. Benissimo, portiamo le mani a terra, ginocchi a terra, cane in giù, punto i piedi. Mando bene il bacino verso l'alto e mi prendo qualche istante qua, se voglio posso camminare sul posto. manda bene i glutei verso l'alto. Respiro e da qua vado a fare un passo in avanti col piede destro, lo porto tra le mani, appoggio il ginocchio sinistro a terra e vado ad allungare il braccio destro verso l'alto. Andiamo a fare una torsione. Un respiro qui e poi riappoggio la mano destra a terra e mi riporto nel cane in giù. Andiamo con la sinistra, inspira, passo in avanti, appoggio il ginocchio destro, allungo il braccio sinistro. Una respirazione qui, la mano sinistra torna a terra, passo indietro di sinistra e sono di nuovo nel cane in giù. E ancora passo in avanti con il piede destro, questa volta il ginocchio sinistro rimane sollevato, sollevo il braccio destro, ancora un altro twist. un respiro e poi riappoggiamo la mano a terra, scivolo indietro col piede destro, cane in giù. Piede sinistro tra le mani, allungo il braccio sinistro verso l'alto, torsione, un respiro qua. Poggio la mano sinistra di nuovo, torno indietro col piede sinistro e sono ancora nel cane in giù. Un bel respiro nel cane in giù. E poi piccoli passettini che ci portano all'inizio del tappetino, porto i piedi sotto le mie anche paralleli, piego le ginocchia e srotolo la schiena. Una vertebra alla volta, piano, piano, la testa bella pesante, le braccia penzoloni e l'ultima che si allinea è la testa. Bene, andiamo ad incrociare adesso le dita tra di loro, tranne l'indice. Da qua piego le gambe, inspiro, allungo verso l'alto, spingo le braccia indietro, attivo l'addome e spingo il bacino in avanti. Ispirando, apro le braccia, mi raddrizzo. Ancora una volta, incrocio le dita, piego le gambe, inspiro, apro bene il petto. Ispiro, apro le braccia. Ancora un paio così, ispiro. Un bel movimento fluido, armonioso, apro, apro, apro. Ispiro, l'ultimo. Ispiro, piego bene le gambe, spingo con i piedi a terra, attivo bene l'addome qua. Ed ispiro, apro le braccia. Benissimo, inspira di nuovo, solleviamo bene le braccia in alto. Ispiro, piego in avanti dal bacino, mani a terra. Ispira per Ardha Uttanasana, allungo bene la schiena. Ispiro, Vignasa Flow, due passi indietro. Mi posiziono nella panca, ispiro. Ispiro, Chaturanga. Ispira, cobra oppure cane in su. Ed ispirando, entriamo nel cane in giù. Prendiamo un respiro qui. E con il prossimo inspiro andiamo a sollevare la gamba destra verso l'alto. Ispirando, porto il piede tra le mani. Rimango in affondo alto, allungo il braccio destro verso l'alto. Il ginocchio dietro rimane sollevato. Ora attiva bene l'addome. Andiamo a sollevare il busto. Il braccio destro mi porta su. E rimango nella torsione. Braccio destro dietro, braccio sinistro in avanti. Abbasso bene le spalle, allungo bene. Braccio sinistro in avanti, braccio destro indietro. Bene, ora le braccia scendono. Inspiro allungo verso l'alto. E ispiro, apro verso sinistra. Mi apro a stella, la punta dei piedi verso l'esterno. Mi giro di qua, prendo un bel inspiro. E ispiro, entro nella dea. Piego le braccia, piego le gambe. Facciamo attenzione bene a non cedere con le ginocchi in avanti. Attiviamo bene l'addome. E da qua porto le mani sulle cosce. E vado a fare una torsione. Spalla a destra in avanti, spalla a sinistra indietro. Cambio, spalla a sinistra in avanti, spalla a destra indietro. Continuo ad aprire bene le ginocchia. Ritorno dritto, inspiro, allungo su. Stendo le gambe. E ispiro, vado a portare le mani davanti al petto. Piego la gamba a sinistra. E vado bene in affondo laterale. Fletto il piede destro. Se non arrivo col tallone a terra, posso tenerlo sollevato sotto di me. Oppure ancora un altro aiuto con un blocco. Lo posso mettere sotto i miei glutei, in questo modo, e sedermi sopra. Se è una posizione molto faticosa per me. E quando arriviamo, ci posizioniamo con il braccio sinistro che si allunga a lato e il braccio destro che si apre. Siamo in una diagonale lunga. Il braccio sinistro in avanti, il braccio destro in diagonale in alto. Sento bene il coccige pesante a terra. La schiena si allunga e il petto si apre. Respira. Benissimo. Ora aiutati con una mano dietro. Porta la mano destra dietro di te e ti vai a sedere. Allungo la gamba sinistra vicino alla destra. Allungo la schiena e vado nella barca. Porto un pochino indietro la schiena. Sollevo le gambe. Piedi flessi. E vado a lasciare, se me la sento oggi, le gambe. Apro il petto verso l'alto. Sento l'addome che risucchia verso l'interno. Respiro. Benissimo. Ci prepariamo adesso per il vignasta flow. Incrocio le gambe. Porto le mani davanti a me. Passo o salto indietro. Espiro in chaturanga. Inspiro nel cobra oppure nel cane all'insù. E con l'espiro mi porto nel cane in giù. Prendi un bel respiro. Benissimo. Ci prepariamo per l'altro lato. Inspiro. Sollevo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro. Piede sinistro tra le mani. E allungo il braccio sinistro verso l'alto. Easy twist. Allungo bene la schiena. Attivo l'addome. Spingo con i piedi a terra. Il braccio sinistro mi porta su. Rimango nella torsione. Braccio sinistro allunga indietro. Braccio destro in avanti. Respiro. Giù bene le spalle. Rilassiamo bene giù. Abbasso adesso le braccia. Mi rivolgo di nuovo in avanti. Inspiro allungo verso l'alto. Espiro. Mi apro a stella verso il lato lungo del tappetino. Prendo un bel inspiro per allungare. Espiro. Ritorno nella Dea. Piego bene le gambe. Apro bene le ginocchia. Il cocci ci punta verso terra. Attiviamo bene l'addome. Benissimo. Mani sulle cosce. Portiamo adesso la spalla sinistra in avanti e spalla destra in dietro. Devo fare ancora una torsione. Scambio. Prendo un bel inspiro. Espiro. Torsione con la destra in avanti. Sinistra in dietro. Ritorno in avanti. Inspiro. Allungo le braccia su. Espiro. Piego le gambe e mani davanti al petto. E vado in affondo laterale sulla gamba a destra. Tengo la gamba sinistra stesa. Il piede flesso. Allungo il braccio destro davanti a me. In diagonale. E il braccio sinistro in alto. La diagonale opposta. Cerco di sentire l'addome pesante. La coccige pesante. La schiena che si allunga. Il ginocchio destro che apre. Respiro. Il petto anche si apre verso l'alto. E ora riappoggiamo le mani. Usiamo la mano sinistra indietro di noi per aiutarci a sedere a terra. Piano. E allungo la gamba destra verso la sinistra. Andiamo ancora nella barca. Allunghiamo bene la schiena. Solleviamo i piedi. Questa volta andiamo a fare un'aggiunta. Porto le mani davanti a me. Incrociando le dita. Tranne l'indice. Prendo un bel inspiro. Allungo. E espiro. Porto le braccia da un lato. Le gambe dall'altro. Inspiro. Allungo verso il centro. E espiro lato. E ancora. Inspira. Ed espira. Inspira. Allungo bene quando passi al centro. E espiro lato. Ancora inspiro. Ed espiro. L'ultima volta. E ritorno al centro. Allungo ancora un attimo. Se voglio posso entrare nella barca completa. Cioè stendo le gambe. E allungo le braccia sopra la testa. Vediamo un po' come ce la sentiamo. Giù bene le spalle. prendo un inspiro. E con l'espiro incrocio le gambe. Porto le mani davanti a me. Vignasa. Flò. Salto o passo indietro. E espiri in chaturanga. E espiri nel tuo cobra. O nel cane in su. E espiro. Cane in giù. Benissimo. Prendiamo un bel respiro qui. E poi piego le gambe. Guardo in avanti. Passo o salto in avanti. Inspira. Ardha-Uttanasana. Espiro in Uttanasana. Portiamo adesso il busto su bene dritta. Inspiro su. Braccia sopra la testa. Espiro. Mani unite davanti al petto. Inspira. Ed espira. Andiamo con un altro flow. Inspiro. Sollevo le mani sopra la testa. Espiro. Scendo in Uttanasana. Cerca la tua fluidità di movimento. Inspiro. Ardha-Uttanasana. Espiro. Passo. Salto indietro. Vignasa flow. Apri il petto con il cobro. Oppure cane in su. Ed espirando. Andiamo nel cane in giù. Benissimo. Prendiamo un respiro qui. Con l'inspirazione solleviamo la gamba destra verso l'alto. Ed espirando porto il piede destro tra le mani. Prepariamo le basi per il guerriero 2. Quindi ruotiamo il tallone sinistro. Lo appoggiamo a terra. Inspiro. Sollevo il busto. Allungo. Braccio destro avanti. Braccio sinistro indietro. Apro bene il ginocchio destro. Portiamo fluidità in questa posizione. Inspiro. Rovescio il guerriero. Espira. Andiamo dall'altra parte. Braccio destro su coscia destra. Inspiro. Ritorno al centro. Espiro. Sinistra allungo. Bene. Apro il petto verso l'alto. Inspiro. E ancora. Espiro. Continuo ad aprire il ginocchio destro. Inspiro. Ed espiro. Ritorno al centro. Inspiro. Espiro allungo. E poi ritorno nel guerriero 2. Ruoto il braccio sinistro in alto e in avanti. Mani a terra. Vinyasa flow. Inspiro. File destro indietro. Panca. Espiro in chaturanga. Inspiro cobra oppure cane in su. Espiro cane in giù. Prendiamo una bella respirazione. E ci prepariamo per l'altra gamba. Inspiro. Sollevo la gamba sinistra. Bene. Alta. Allunga. Espiro. Piede sinistro tra le mani. Ruoto il tallone destro. Inspiro. Mi preparo nel guerriero 2. Facciamo attenzione qua bene l'addome al cocci che guarda a terra. Rovescio il guerriero. Inspiro. Allungo indietro. Espiro. Andiamo dall'altra parte. Verso sinistra. Con l'inspiro passiamo dal guerriero 2. Con l'espiro rovesciamo. Inspiro. Guerriero. Espiro. Inspira. Vado e espiro. Continuo ad aprire il ginocchio sinistro. Ancora. Inspiro. Ed espiro. L'ultimo. Inspiro. Indietro. Espiro. Inspiro. E vado verso la gamba sinistra. Espirando. Bene. Riportiamoci nel guerriero 2. Ruoto il braccio destro in avanti. Porto le mani a terra. E siamo pronti per il flow. Inspiro. Piede sinistro indietro panca. Espiro in chaturanga. Inspiro cobra. O cane all'insù. Espiro. Cane in giù. Inspira. Ed espira qua. Andiamo adesso a piegare bene le gambe. Guardiamo in avanti. Passo o salto in avanti. Inspiro. Ardha Uttanasana. Espiro. Uttanasana. Ci riportiamo su a lungo la schiena. Inspiro. Apro il petto. Espiro. Mani unite davanti al petto. Inspiro. Ed espiro. Ottimo lavoro. Entriamo nella fase un po' più, un po' meno intensa della pratica. Rilassiamo le tensioni che abbiamo ancora accumulato. Rilassiamo le braccia. Portiamo la testa in avanti. Piano piano. Scendiamo a terra. Lasciamo che la testa, il peso della testa ci porti giù. Arrotondiamo bene la schiena. Arrotondiamo bene la schiena. Le braccia a penzoloni. e quando le mani arrivano a terra, mi accovaccio a terra. Bacino sopra i talloni. Mi aiuto con una mano per sedere a terra. Benissimo. Andiamo adesso a portare il ginocchio sinistro davanti a noi. Quindi pieghiamo la gamba, portando il piede verso il gluteo destro e poi portiamo la gamba destra sopra. Se riesco, provo a portare le ginocchia una sopra l'altra, quindi allungando con il piede destro a lato. Cerco però di stare con entrambi gli schi a terra. Benissimo. Da qua allungo. E poi con l'inspiro vado ad allungare bene le braccia verso l'alto. Ed ispirando andiamo ad allungarci a sinistra. Allungo bene. Sento tutta la parte destra che si allunga. Cerca di rilassare il respiro, di prendere questa parte di pratica più calma, di sentire l'energia che hai creato, fluire nel tappetino, fluire nel corpo. Ritorniamo su piano piano, dritte su e poi ci allunghiamo in avanti, portiamo le mani in avanti. Cerchiamo di rilassare poi la testa, le braccia e le spalle. Benissimo, srotoliamo la schiena, ci riportiamo su, piano piano e andiamo a fare una torsione. La mano destra va dietro di noi. Con la mano sinistra aggancio la coscia destra e vado bene a spingere sulla coscia per aiutarmi nella torsione. Cerchiamo bene di allungare verso l'alto, di rilassare le spalle. E poi ritorno in avanti e sciolgo la posizione, allungo le gambe in avanti, andiamo con l'altra gamba. Quindi porto il piede destro verso il gluteo sinistro, a cavallo la gamba sinistra sopra e posso anche portare, se riesco, se mi è possibile, un ginocchio sopra l'alto. Se senti che sei un po' storto o storta, puoi lasciare il piede a terra, il piede sinistro. Bene, da qua allunghiamo verso l'alto un bel inspiro. Ed espirando la mano destra scende a terra e vado ad allungarmi a destra. Allungo bene anche il braccio sinistro. Voglio sentire allungare bene tutta la parte sinistra del busto, del fianco. Cerco di rilassare le cosce. Respiro, fluido, calmo. E poi piano piano ritorniamo su, prendi un bel inspiro. E con l'espiro andiamo a rilassare in avanti. Lascio andare il busto, la testa, le braccia. E ora srotolo la schiena, mi riporto su lentamente. Porto la mano sinistra dietro di me, braccio destro che si aggancia alla coscia sinistra. Spingo sulla coscia per andare in una bella torsione. Cerchiamo con la torsione proprio di sciogliere le tensioni nella schiena. Osserviamo che se nel frattempo abbiamo messo qualche tensione in altri punti, magari nei fianchi, nella caviglie. Cerchiamo di rilassare, mollare. E poi ci riportiamo in avanti e sciogliamo la posizione. Benissimo. Arrivato il momento di Shavasana, ci sdraiamo bene a terra. Il meritato Shavasana. Piano piano portiamo la schiena ad aderire bene a terra. Sistemiamo le spalle, le scapole. Allunghiamo le gambe. Braccia a lato con i palmi rivolti verso l'alto. E occhi chiusi. Lasciamo andare le gambe pesanti sul tappetino. Il bacino pesante. La porzione più bassa della schiena, della colonna, che si rilassa, si distende. Il coccige, il sacro e la lombare. E tutti i muscoli attorno a questa zona. L'addome è morbido. Segue il ritmo calmo e fluido del nostro respiro. La schiena si rilassa. I muscoli attorno alle scapole, le spalle, le clavicole si rilassano. Le braccia pesanti a terra. La cervicale, la gola, i lati del collo. La mandibola, la lingua, i muscoli dell'espressione, del sorriso e gli occhi si rilassano. Tutto il corpo, ad ogni espiro, abbandona qualcosa che non gli serve più. Lascia andare una tensione. Ora se vuoi, hai tempo di continuare in Shavasana, fai pure. Spegni il video e procedi. Se invece vuoi terminare la pratica insieme a me, comincia piano piano a muovere le dita delle mani e dei piedi. A ruotare anche la testa, se è una cosa piacevole per il tuo collo. E poi piano piano passiamo su un fianco. Per portarci poi seduti, sedute, con la schiena bene dritta. Portiamo poi le mani unite davanti al petto e incliniamo la testa in avanti. Per concludere la pratica, prendiamo un respiro insieme, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Inspira, inspira ed espira. Apro lentamente gli occhi. La pratica è finita. Namaste. Namaste. Momentai. La notazione.